Grazie Carlotta per avermi taggato, io accetto la sfida e niente, Fonzis, sapete che il loro motto è se non ti lecchi le dita godi solo la metà, ma in quarantena toccare le cose e leccarsi le dita è meglio non farlo, quindi per questa sfida avremo bisogno di un pacchetto di Fonzis e di un cucchiaio, guardate. Sembra facile, ma non l'è affatto, 3! Perfetto, direi che non sono andato benissimo, e adesso sfido Chiara Caccano. Amici